Benvenuti nel mondo degli orologi Davidoff. Il gruppo Zino Davidoff è un'azienda svizzera a conduzione familiare, che con il tempo è diventata sinonimo di eleganza, stile e qualità. Fondata nel 1980, l'azienda ha creato un marchio di orologi di lusso, che ha raggiunto una reputazione di eccellenza in tutto il mondo. Gli orologi Davidoff sono progettati per i veri appassionati di orologi, che apprezzano la bellezza dell'artigianato svizzero e la precisione della tecnologia orologera. La gamma di orologi Davidoff comprende una vasta selezione di modelli, dalle linee classiche a quelle più moderne e sportive, ma tutti con un tocco di eleganza. Uno dei modelli più noti dell'azienda è il Davidoff Crono Classic, un orologio da polso dal design elegante e sofisticato, caratterizzato da un movimento al quarzo e una cassa in acciaio inossidabile. Questo orologio è disponibile in diversi colori e modelli. Per i veri appassionati di orologi, la collezione Davidoff Timeless è un'opzione ideale. Questa collezione comprende alcuni dei modelli più esclusivi e prestigiosi di Davidoff, tra cui il Davidoff Cronograph Tourbillon e il Davidoff Endurer Crono Sprint. Ogni orologio Davidoff è stato creato con cura e attenzione ai dettagli, utilizzando solo i migliori materiali e le tecniche di produzione più avanzate. Gli artigiani che lavorano alle creazioni Davidoff sono alcuni dei più esperti al mondo, con un'esperienza pluriennale nella produzione di orologi di alta gamma. In conclusione, il gruppo Zino Davidoff è un'azienda svizzera che si è guadagnata una reputazione di eccellenza nella produzione di orologi di lusso. Con una vasta gamma di modelli, materiali e prezzi, gli orologi Davidoff sono adatti a qualsiasi appassionato di orologi che cerca eleganza, raffinatezza e tecnologia avanzata.